Si chiama Sirve ed è il nuovo sistema di rilevazione degli svuotamenti dei rifiuti che riguarderà i comuni gestiti dai bacini 3 e 4. Da Agna Montagnana passando per Terrassa Padovana saranno oltre 100.000 gli abitanti coinvolti in questo progetto innovativo che consentirà a tutti gli utenti di avere una tariffa equa ottenuta grazie alla scelta anche politica di abbandonare le modalità di calcolo presuntive. Come funziona? Nella sede di Padova 3 a margine della conferenza stampa di presentazione si è avuta una prima dimostrazione. Ad ogni utente verranno spedite tre tag, ossia le tessere che state vedendo riferite al rifiuto secco, umido e verde, da applicare sopra i propri bidoni. Gli operatori procederanno quindi al loro lavoro come d'abitudine dotati però di un apparecchio simile ad un palmare che tramite wifi rileverà lo svuotamento del bidone con immediato conteggio in fattura. Non cambia nulla per l'utente, cambia molto per la gestione non comporta operatività aggiuntiva per quanto riguarda il lavoro degli operatori di raccolta. Questo servizio nasce nel 2009 quando per effetto della sentenza della Corte Costituzionale la TIA Ronchi, la TIA Vecchio Modo, calcolata cioè sul numero delle persone componenti nucleo familiare è stata di fatto dichiarata equivalente alla vecchia tassa. E così comuni e consorzi hanno costruito una strada amministrativa fondamentale per la nascita di SIRV sistema disponibile non solo per le utenze domestiche ma anche per le aziende che sottoscriveranno il contratto con Padova 3. E grazie al suo carattere versatile e tecnologico SIRV potrà risultare esempio anche per simili realtà cittadine di contenuta dimensione. Questo progetto del bacino Padova 3 costituisce un punto di partenza perché anche dal punto di vista tecnologico e dell'impegno dei cittadini richiede una certa attenzione. Per arrivare ecco a livello provinciale alla necessità di armonizzare nell'intero territorio provinciale le stesse modalità operative. È il risultato di un lavoro fatto partendo dagli enti locali, dai sindaci, da tutte quelle amministrazioni che si sono impegnate per garantire che ad esempio nella raccolta differenziata ci fosse la giusta attenzione dei cittadini. Quindi un impegno che adesso viene riconosciuto anche nel minore apporto possibile di rifiuti che poi vanno in discarica. Un sistema di totale innovazione insomma che contribuisce a mantenere fulgido l'assoluto primato nazionale del Veneto per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti.